Ci troviamo qui presso il molinaccio di Spoleto, non ancora arrivati perché le fiamme ci impediscono di avanzare. Ecco, come potete vedere, le fiamme hanno ormai raggiunto il ciglio della strada. Il fumo si alza denso e non è più possibile procedere per la strada. Ecco, vi faccio vedere la nube nera che solca il cielo. È veramente impressionante. Fumo e lingue di fuoco che stanno devastando ettori di bosca e di montagna. Molte auto vanno su fuoco ed anche le abitazioni sono state interessate dalle fiamme. È tuttora in corso l'operazione dei vigili del fuoco che stanno cercando di far evacuare il più velocemente possibile tutte le abitazioni e ovviamente i cittadini che sono a rischio. Ecco, guardate questa nube che si sta alzando in questo momento. Ecco, le fiamme, eccole qua. Le fiamme stanno lambendo il bosco che dà sulla strada. Il forte vento, c'è un forte vento che sta alimentando le fiamme e il fumo sta avvolgendo anche la strada che si trova a livello molto basso. Ecco, vedete il vento sulle piante di testimonianza che soffia a forte velocità. Vedete come il fumo si spossa a velocità e secondo me, con questo è il fumo che si scelta per aumentare le fiamme. Tutte le squadre che mi dice del fuoco stanno facendo fronte all'emergenza, ma non sarà facile data la vastità proporzione di un incendio che davvero si fatica a credere da queste parti.